Un saluto a tutti gli amici di smartworld.it. Mi sono messo vicinissimo alla lente per vedere se riuscissi a nasconderlo con la mia faccia, ma evidentemente no, traspare ancora un po' dietro di me, quindi tanto vale che ve lo sveli subito. Sto parlando del nuovo Smart TV da 75 pollici di Xiaomi, che sarà in vendita in Italia dal 10 marzo ad un prezzo davvero interessante. Scopriamo cosa c'è da sapere in questa video anteprima. Ed eccola qui la TV con la quale Xiaomi fa davvero il salto di qualità. Si chiama Xiaomi Mi TV Q1 75 pollici e, come suggerisce il nome, ha un gigantesco pannello da ben 75 pollici con cornici ridotte davvero al minimo. Ma soprattutto è la prima TV di Xiaomi ad adottare un display con tecnologia Quantum Dot, che restituisce dei colori davvero intensi e brillanti. Parlando un po' del pannello QLED, la risoluzione è ovviamente 4K Ultra HD, è dotato di local dimming e supporta Dolby Vision e ovviamente HDR10+. Un'altra nota interessante a proposito del display è il refresh rate davvero elevato, da ben 120Hz. Considerando anche le tre porte HDMI 2.1 con supporto alla modalità Auto Low Latency, è facile intuire che questa TV si adatta benissimo anche al gaming. Ma oltre che sul video, Xiaomi ha scommesso moltissimo sul comparto audio. La Mi TV Q1 75 pollici è infatti dotata di due speaker da 15W di potenza, ognuno dei quali è composto da un tweeter e due woofer. Per un totale quindi di 30W di potenza, due tweeter e quattro woofer, che restituiscono un audio davvero impressionante. Ovviamente non manca il supporto al Dolby Audio. Sotto la scocca a muovere il tutto troviamo un processore Mediatek Quad Core da 1,5GHz, 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Il tutto è basato su Android TV 10, che ci permette di avere tutte le applicazioni che ci si aspetta da una TV di ultima generazione, incluso ovviamente Netflix, Prime Video, YouTube e qualsiasi altra cosa che vi passi per la testa, dato che ovviamente c'è anche il Play Store da cui potete installare quel che vi pare. Il telecomando ha tutti i tasti tipici di una Smart TV, incluso i pulsanti per lanciare rapidamente Netflix e Prime Video. E poi c'è anche il pulsante per utilizzare l'assistente vocale di Google integrato nel sistema. A proposito di assistenti vocali, la Mi TV Q1 supporta anche Alexa e può essere risvegliata anche con il comando OK Google. Ma se non vi piace l'idea che la vostra TV vi ascolti, non preoccupatevi. Sul fondo troviamo infatti anche un pulsante fisico per spegnere i microfoni. E a proposito di pulsanti e microfoni, parliamo un po' anche di connettività. Oltre alle tre porte HDMI 2.1 già accennate, troviamo anche due slot per l'USB 2.0, jack per le cuffie, porta Ethernet e ovviamente Bluetooth 5.0 e Wi-Fi da 2,4 e 5 GHz. Infine vale la pena dare un'occhiata anche alla struttura, realizzata interamente in metallo, con questa base bella solida che garantisce grande stabilità. E poi guardate anche quanto è sottile il pannello. Parliamo infine anche di prezzo, che è sicuramente uno dei punti più interessanti di questa gigantesca TV dietro di me, perché la Xiaomi Mi TV Q1 75 pollici sarà in vendita in Italia dal 10 marzo sul sito di Xiaomi e negli Xiaomi Store al prezzo di 1.299€. Tuttavia, per chi la acquista nelle prime 24 ore, Xiaomi ha previsto un'offerta davvero super interessante con un prezzo promozionale di soli 999€, che è un costo davvero super interessante per una TV gigantesca come questa. Per quest'anteprima con la Xiaomi Mi TV Q1 75 pollici è tutto, io sono Giuseppe, come sempre vi do appuntamento al prossimo video qui su smartworld.it. Ciao, alla prossima! Io sono Giuseppe, come sempre vi do appuntamento al prossimo video.